tu mi rimpiangerai bella senza anima papà ma la mamma non risponde è morta alice cosa dici la mamma sta dormendo nel tuo letto di là e dissi mentre il cuore mi saltò in gola e vibrò una stretta all'accio come se qualcosa mi bloccasse al braccio scusate come se qualcosa mi bloccasse sentendo la paura al suo fondo e non riuscendo a riordinare le idee percepì persino la mia resistenza ad andare nell'altra stanza mentre alice ancora mi guardava in cerchio di un aiuto papà la mamma è ferma e fredda da un sacco di tempo adesso papà va dalla mamma e le preparo una camomila per scaldarla e mi buttai fuori dal letto col cuore che mi assordava nelle tempi e il terribile inopportuno desiderio di pisciare passai accanto al lettino di aurora e li senti la fronte era tiepida e dormiva cominciai a fare quei passi eterni verso la stanza di alice una bella sera prima avevo lasciato mia moglie a dormire nel letto pensavo riprendendo respiro che i bambini hanno qualcosa di diabolico insieme di tragico e che la loro incapacità di discernere il vero dal falso ma anzi di artere la realtà contiene un enorme pericolo per le famiglie oltre che una grande carica di gioco e così pensando a mia moglie che forse si era malata e a mia figlia che aveva percepito un pericolo per la madre e che aveva concepito l'abisso della morte e della mancanza vise la forma del letto dell'oscurità e la sagoma diluisa la sagoma sottile e rincantucciata dentro il lettino della figlia mi svevo le spalle ed era coperta dal lenzuolo pensai di far entrare la luce uno spiraglio per svegliarla lentamente e intanto verificare lo stato della sua salute era immobile e anche quando apri le finestre mi mosse nella stanza e le non si mosse non ebbe il coraggio intorno alle bambine Alice stava nel letto ad aspettare Alice rimettiti al letto papà va a fare la camomilla e torna dorme ancora un po' Alice si rincuorò si sdraia subito e mi sembra serena pensò forse di essersi immaginata tutta aspettai che si addormentasse mentre cominciava a dubitare che mia moglie fosse ancora viva tutto quel trombusto non poteva non averla svegliata quando le due bimbe si furono addormentate torna nella stanza di Alice Luisa non si era ammossa nemmeno con la luce che entrava abbondante prese la sedia piccola e mi sedete per osservarla volevo cogliere la lontana d'aspiro per farlo fermarmi qualche secondo e mi parlo che le spalle si muovessero che accennassero al movimento del su e giù così tensi l'orecchio per ascoltare il soffio non mi rendevo conto di come tutto in quella stanza se fosse di improvvisare al celato per non svegliare le piccole cominciai a chiamarla a susuri Luisa ti prego svegliati Luisa Alice ha paura per te pensa che è venuta a svegliarmi dicendo che sei morta però non ha girato e piano così mi tranquillizzo e dormiamo ancora un'ora forse il tuo mal di testo stamattina non ci sarà più Luisa fai una sforza e riparlavo Bonario accennando la risa come per convincerlo non so perché ma cominciai a vedere Luisa sedici anni prima a ricordarla mentre era con me in vacanza all'anno in cui ci eravamo cresciuti al mare la tipica storia estiva da chiudere una volta ritornata in città e invece era diventata una storia d'amore un matrimonio con i figli e il mio affano quotidiano lei in vacanza era una ragazza di vent'anni belle e giocosa me la vedevo correre sulla spiaggia in attesa che la seguisse per lunga e pazienciata amorosa piene di baci e strugimenti era così libera e intraprendente eppure severa e controllata adesso quei cappelli che mi piaceva accarezzare per la loro morbidezza cadevano in una ciocca strana che sembrava staccata dal corpo furono proprio i cappelli ad attirarmi verso al lato mi ginocchiai sperando che fosse davvero un caso un'invenzione, un mio sogno, un delirio e le accarezzai i cappelli che mandò la piano allora le sfiorai la fronte per assaggiare la temperatura ma non ebbi il coraggio di posarvi la mano cominciai a piangere e a chiamarla tutto a piano tutto a piano per non svegliare le bimbe loro rappresentavano comunque una priorità e se si fossero svegliate cosa avrei potuto fare? vegliare quella loro madre morta? mi stavo spezzando dal dolore e per questo agire malamente con un pizzico di rabbi dal fianco alla porta supina era rigida e un braccio si divincola dal corpo mi colpisce intenso le mie gambe un colpo secco, improprio e strano e senza calore alcuno a riposizionare il braccio lungo il corpo aveva la bocca leggermente aperta e gli occhi fortunatamente chiusi la pelle era di un colore chiaro che non avevo mai visto era morta, Luisa era morta, morta da 36 anni provai a sentire il cuore, le spostai il seno e senti sotto il freddo del sudore il corpo era sudato acquoso e freddo di un freddo innaturale un freddo diverso da quello registrato sugli oggetti e le cose e un paio di mani gelate sotto il seno il cuore non batteva, semplicemente non c'era più 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 non c'era più